Giuseppe Conte mente sapendo di mentire agli italiani. Quando domenica 18 ottobre, dopo il nostro corteo sotto Palazzo Chigi, mi ha ricevuto nel suo studio, affermava che il decreto che aveva appena firmato era stato ispirato dagli esperti del CTS. Con la pubblicazione, questa notte, del verbale segreto di quella riunione del 17 ottobre, è stato smentito clamorosamente. Non una virgola che consigliava il governo di chiudere bar, ristoranti, pub, eccetera, dopo le ore 18. Oltre alla colpa c'è anche il dolo e per questo noi chiederemo i danni a questo governo per aver gettato nella disperazione migliaia di italiani e per aver affossato un intero comparto.